Esordio in grande stile, studio televisivo in gran spolvero con la scenografia dell'architetto Adriano Marchisciana per il nuovo programma su Canale 10 denominato Domino. Il concept, l'idea dalla quale Domino parte, è quella di innescare un dibattito raccontando i fatti e facendo evolvere il programma come in una reazione a catena, tenendo sempre presente che i telespettatori da casa si faranno sempre una personale e precisa idea di ciò che è stato detto in studio. Ieri sera, nella puntata di esordio del nuovo progetto, la prima reazione a catena ha riguardato due argomenti che hanno coinvolto sabato scorso l'intera città, ovvero la Notte Bianca e la contestuale rivalutazione del centro storico. A dibattere in studio in un crescendo interessante l'assessore Giuseppe Ventura, tra i fautori e organizzatori dell'evento, Valentino Granvillano, vicepresidente del consorzio di Gela Centro e ancora i commercianti gelesi Ennio Greco e Giovanni Bentivegna. C'è stato spazio anche per due contributi realizzati in esterna nel corso della Notte Bianca con le interviste ai cittadini che hanno poi dato spunto al rientro in studio per riaccendere il dibattito. Domino andrà in onda sulla nostra emittente ogni giovedì alle ore 21 per scandagliare gli alti e i bassi di Gela e del suo comprensorio. Chi volesse rivedere la puntata potrà farlo collegandosi al nostro sito internet www.tg10.it, sul nostro profilo e sulla nostra pagina Facebook da questa sera. Domino andrà in onda e replica ogni martedì sempre in prima serata.